allora indovina chi sono non saprei sam ecco un aiutino salvador da lì bravo oh questa è facile billy eilish indovinato adesso prova a indovinare quest'altra vediamo se ci arriva più 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 mi arrendo sammy non ne ho la minima idea oh ma come roger sono un robot non mi riesce tanto bene su col morale amico mi hai fatto venire un'idea questa sì che ci riuscirà alla grande ciao a tutti oggi costruiremo un fantastico robot fatto di cavi e cartoncino e potrà anche camminare non è incredibile sammy mi passi quella rotella certo ma spero di poterti aiutare molto di più rog insomma sai che posso fare tante cose io capito certo sam lo so porta pazienza e vedrai che cosa costruiremo anche voi ragazzi restate con noi e non crederete ai vostri occhi fate molta attenzione col punteruolo fatto bisogna forare anche il secondo tappo poi li incolleremo insieme dopo infiliamo uno stecchino per fare da asse così qualcosa mi dice che è arrivato il momento di darti i cavi roger grazie ragazzi noi ci aiuteremo con la magia adesso voi invece fatevi aiutare da un adulto per sistemare i cavi fantastico ora incolliamo tutto a questi pezzi di cartoncino che te ne pare spider man semplici pezzi di cartone niente di che basta criticare voi due guardate piuttosto ora grande ora si che ragioniamo roger la cosa importante è fare tutto con molta precisione se volete che il vostro robot cammini e funzioni bene seguite le istruzioni alla lettera adesso ci serve la colla vero ben detto sammy passamela per favore ragazzi occhio mi raccomando solo un pochino di colla così roger ci metti troppo tempo lascia che ti aiuti per accelerare le cose deve intervenire il maestro sammy ottimo ma ci serve la seconda gamba allora non ha funzionato dai finalmente il robot ora tutte e due le gambe ragazzi restate con noi ok con questi pezzi costruiremo i fianchi ritagliamoli poi li incolliamo tutti insieme un pezzo dopo l'altro per ottenere uno strato bello spesso così fatene due roger aiuto questa cosa mi mi raccomando sei libero ma come sapevi che mi serviva questo io tipo un sesto senso in queste cose o magari tiri a indovinare sam abbiamo aggiunto un po di metallo al nostro robot ma questo dobbiamo farlo un po più largo ci serve più carta roger datti una mossa voglio vedere il robot beh dipingi questi intanto ok guarda l'ho dipinto metallizzato bravissimo sammy proprio come lo volevo ora l'assemblaggio sarà semplicissimo ecco fatto questo ragazzi sarà il nucleo principale del meccanismo che farà muovere il robot inseriamolo eccolo qui ora assicuriamo le gambe al meccanismo avvitiamole qui ma prima non avevi detto che bisognava lavorare con precisione ti riferisci a tutti quei cavi sam tranquillo poi li nascondiamo ecco ragazzi mettiamo questi pezzi di cartone qui in modo che i cavi si possano infilare in questa apertura a quel punto li tiriamo su da qui così è un passaggio un po complicato ragazzi quindi fatevi aiutare questo è per te roger grazie iron man mi sa che anche questi dobbiamo avvitarli un po dopo tutto costruiamo un robot mi sembra un'ottima idea ok ora la seconda gamba ecco ragazzi dovrà vedersi così ma dimmi una cosa roger ogni robot deve servire a uno scopo il nostro che cosa farà di preciso scusami hai proprio ragione sammy il nostro robot sarà un portacellulare wow ma sembra un sogno un sogno che presto sarà realtà cominciamo ad assemblare sai una cosa rock puoi usare questo per coprire tutto perfetto semi sei un grande ragazzi guardate con attenzione non distraetevi questo pezzo farà da supporto è importante e questa sarà la testa o meglio il portacellulare restate con noi ragazzi e vedrete il risultato dunque ecco come funziona ragazzi il meccanismo è semplice tenuto insieme da un elastico il telefono andrà qui vedete guarda che cosa ho fatto io massima precisione vero bravo con il pezzo che ha fatto sammy copriremo il portacellulare giusto un po di colla sai cosa roger questo lavoretto è davvero geniale ragazzi forza con i like se siete d'accordo devo dire che già così il nostro robot è proprio bello ma manca ancora qualcosa cosa manca al nostro robot ci sono roger le braccia bingo ed ecco qui tutti i pezzi con cui costruiremo le braccia la giuntura della spalla l'avambraccio eccetera per assemblarli usiamo un po di magia com'era la formula sammy bibidi bobidi iscrivetevi wow funziona hai imparato la mia formula magica vedo è bene bene ma quindi è solo per questo che ti serve il mio aiuto insomma non manca molto abbiamo quasi finito e ti ho aiutato così poco mi hai aiutato un sacco amico ma abbia ancora un po di pazienza e vedrai non voglio rovinarti la sorpresa e va bene però dimmi che stai facendo adesso sto finendo di sistemare i cavi in questa sorta di zainetto inseriremo tutti i cavi attraverso questa apertura così entreranno tutti in questo cilindro vedete poi tiriamo di nuovo fuori tutti i cavi in questo modo delicatamente ragazzi mi raccomando non trascurare lo stile roger il nostro robot deve essere anche bellissimo grazie sam fantastico lavoro sempre felice di aiutarti però aspetta dove ci sono cavi deve esserci anche un circuito elettrico sarà lì che collegheremo tutti i cavi ma prima incolliamo il circuito a questo pezzo di cartone ma ci vorrà un secolo ecco dove metteremo il circuito ragazzi fatevi sempre aiutare con i cavi allora è tutto pronto sì sì ci mancano solo un po di decorazioni per rendere il nostro robot davvero unico qualcuno ha detto decorazioni sì penso io fantastico sam nessuno ti batte con il design e non hai ancora visto la turbina che ho realizzato che ne pensi wow ragazzi guardate che roba ecco come nasconderemo tutto il oviglio di cavi li avvolgiamo con della carta e la dipingiamo ti prego roger dimmi che abbiamo finito quasi aggiungiamo solo qualche pezzettino di metallo qua e là che robot sarebbe senza metallo finalmente vedrò il risultato di tutto il mio duro lavoro Errassi 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 Si E Sono proprio soddisfatto del nostro lavoro di oggi. Vi piace, ragazzi? Sì, sì, bello, bello. Ma adesso lo vediamo all'opera. Ok. Signore e signori e piccoli slime, vi presento Sam, il robot portacellulare. Ciao a tutti. Questo è Sam contento e questo è Sam triste. E il mio preferito, Sam arrabbiato. È solo un robot. Ragazzi, lo vediamo più in dettaglio ancora una volta? Oh, che carino questo robottino Sam. Oh, Roger, è stupendo. Vero. È arrivato il momento di salutare i nostri amici a casa. Giusto. Ragazzi, se vi è piaciuto il nostro robot, non dimenticate di metterci tanti like. E di iscrivervi al canale. A presto, amici. Ehi, aspettami! Grazie. Grazie. Grazie.